Bene amici questa è la nuova Volkswagen T-Roc Model Year 2022, la grande novità è che è disponibile in allestimento R-Line Cosa cambia? Beh frontale molto più aggressivo con i led delle luci diurne qua verticali e non nel trapezio che comprende nelle altre versioni Indicatore direzione e luci diurne e poi questo listello cromato che unisce i fari anteriori In questa versione led adattivi tra l'altro led su tutte le versioni anche sulla base ma optional ci sono i matrix a 24 zone che hanno una particolarità Quella di far diventare luminoso questo listello che qua è appunto cromato Radar degli ADAS, là davanti la telecamera, solita guida autonoma di livello 2, sempre ventarate le Volkswagen E sotto al cofano tante motorizzazioni, benzina, diesel, si parte dal 1000, poi c'è il 1500, c'è anche il 2300 cavalli, 4 ruote motrici e anche le versioni 2000 diesel da 115 oppure 150 cavalli Quindi ampie possibilità di scelta anche se forse è l'unica critica che posso muovere a questa vettura il fatto che manchi completamente una versione elettrificata o elettrica Ma vi faccio vedere il taglio laterale, mi piace molto il fatto che sia comunque abbastanza compatta, 4 metri e 25 di lunghezza E poi mi piace tanto il bicolore che non è un colore o un'opzione con sovrapprezzo Invece qua abbiamo un optional che è la versione completamente nera Mi piace tanto perché va ad aggiungere quel pezzettino di similcarbonio là sul montante posteriore e tutti i particolari neri 19 pollici per questi cerchi molto belli, si chiamano Misano 225 40 R19 Si parte con cerchi in lega da 16 pollici Ma vi faccio vedere il taglio posteriore, anche qua si è rinnovato, si è incattivito e easy open Cioè basta fare così con la chiave in tasca e voilà il baule si apre elettricamente A svelare una buona capacità di carico per la categoria perché abbiamo 445 litri che arrivano quasi a 1300 Se abbattiamo 40-60 i sedili tra l'altro c'è la possibilità del carico passante La possibilità di spostare il fondo per avere un unico piano di carico quando abbattiamo i sedili E qua sotto cosa c'è? Il ruotino di scorta Apertura Achilles delle portiere e dentro è l'ambito in cui è cambiata di più Volkswagen ha fatto sulle critiche su plastica un pochino troppo dure e ha migliorato anche il pannello porta Con questa impuntura ok non c'è il vellutino nel portoggetti ma c'è un comodo fondo in gomma I sedili sono a regolazione manuale ma c'è l'optional della regolazione elettrica Bello il rivestimento, un po' in tessuto, un po' in vellutino e guardate la plancia Questa sì che è completamente nuova e soprattutto morbida con queste impunture C'è un aspetto decisamente più premium ma vi faccio vedere davanti agli occhi Cruscotto digitale 10-25 pollici oppure 8 pollici di serie su tutte le versioni Anche l'infotainment è stato spostato un pochino più su 8 oppure 9,2 pollici Bocchette della reazione un pochino più in basso con climatizzatore sdoppiato lato destro Lato sinistro qua sotto possibilità di avere la carica wireless per i cellulari e doppia presa USB di tipo C Insomma si respira un'aria decisamente più premium ma la mia critica è su questo piano black Che attira la polvere di date come fosse uno Swiffer Tanti vani, vanetti a disposizione Qua abbiamo il DSG 7 rapporti Nella versione 4Motion c'è anche il manettino per cambiare le impostazioni della trazione integrale Un vano anche qua sotto al solito Le alette parasole con lucine LED LED anche l'illuminazione generale E vi faccio vedere il volante di serie con i comandi touch Che sono anche fisici su questa R-Line Sulle altre versioni di serie invece i comandi con solamente i pulsanti Ma adesso vi porto dietro la spengo se no giustamente Bippa Per far vedere quanto spazio c'è a bordo Beh se voi siete alti come me ovvero 1,62m 1,70m rimangono quasi due spanne Quindi c'è una buona abitabilità Mentre se siete alti come il mio collaboratore Quindi sposterete un po' indietro il sedile 1,90m il setup Beh dietro rimarrà non tanto spazio Un po' meno di una spanna Ma vi ricordo che questa vettura è anche un filo più corto di Golf Pur essendo costruita sulla piattaforma proprio di Golf Ecco come ci sto io Invece c'è tanto spazio per l'altezza Perché guardate una spanna qua sopra alla mia testa Qua dietro c'è anche la climatizzazione con le bocchette Due prese USB di tipo C C'è il tunnel centrale Perché vi ricordo che è disponibile anche la versione a quattro ruote motrici E qua il porta oggetti con anche il bracciolo e il carico passante Bello anche il fatto che gli Isofix siano facilmente raggiungibili Per mettere comodamente un seggiolino per bambini Ma adesso andiamo a guidarla Io sono al volante del 1500 4 cilindri Vi ricordo che due si possono disattivare in determinate condizioni Per risparmiare un po' di carburante Bello il fatto che l'Adaptive Cruise Control sia di serie su tutte le versioni Però qua non abbiamo il Travel Assist Io comunque ho attivato in città appunto l'ACC Che trovo molto comodo Anche perché in abbinamento col DSG 7 rapporti Sempre un cambio molto intelligente E Valdo arriva fino a 0 Allora io qua non ho schiacciato niente E la T-Roc si è fermata in maniera soft È quello che dicevo prima sugli Adas di Volkswagen Sono sempre tarati molto molto bene Ma partiamo subito con i consumi In città a circa 12 km con un litro di carburante Quando le vetture davanti ripartono Si riaccende il motore start and stop Che entra sempre in maniera molto tranquilla Non sobalza quando riparte il motore Ma per ripartire bisogna dare il colpettino di acceleratore Ho appena... Anzi una macchina mi ha appena tagliato la strada E avete visto si è acceso il LED Che mi notificava attenzione Frena perché c'è ovviamente la frenata automatica di emergenza Ma quello che volevo dirvi è che quando abbiamo passato quelle rotaie Abbiamo notato un assetto veramente bello È abbastanza confortevole Nonostante il cerchio da 19 pollici Poi vi farò vedere come è anche una vettura stabile Insomma come spesso accade quando mi siedo al volante di una Volkswagen Te la senti tua anche se sei salito da 5 minuti Ha veramente un assetto generale molto valido Per quanto riguarda la climatizzazione Devo dire molto bene C'è la possibilità dell'air care Quindi del miglioramento della qualità dell'aria dentro l'abitacolo E c'è anche la possibilità di andare a settare l'automatismo Oppure utilizzare il climatizzatore in maniera manuale Ma quello che volevo farvi vedere è La possibilità di avere CarPlay e ovviamente anche Android Auto In maniera wireless Non cablata Per quanto riguarda il menu e l'infotainment È quello che abbiamo già visto in altri modelli Volkswagen Però questo posizionamento un pochino più in alto Mi piace È più sull'asse visivo Siamo in un tunnel e vi parlo dell'illuminazione Potentissimi i LED Noi abbiamo gli adattivi Ma vi consiglio di mettere i Matrix Perché i Matrix Volkswagen Oltre ad essere molto intelligenti Fanno una luce veramente bestiale Già così comunque c'è una grande illuminazione Dentro l'illuminazione lounge Passa da questi filetti sulle portiere E dalla proiezione sull'asfalto di una luce Che vi aiuta anche quando scendete di notte A non mettere i piedi magari in una pozzangra Per quanto riguarda gli ADAS Abbiamo la possibilità di avere Come dicevo prima Il lane assist Il travel assist Ovvero quel sistema che vi tiene il centro della corsia E optional Non c'è su questa airline che ho in prova Anche lì vi consiglio di metterlo Ma molto bene il fatto che Se ci avviciniamo alla linea di mezzeria Vedete comunque il volante si muove attivamente Per tenervi comunque dentro alla vostra corsia E poi ovviamente possibilità di andare a settare Il front assist con un preavvertimento Un pochino più aggressivo O un pochino più ritardato E anche il rilevatore della stanchezza del conducente E la CC che ha una funzione intelligente Ovvero quella di poter selezionare L'attivazione con l'ultima distanza che abbiamo settato Oppure di selezionare l'attivazione Sempre con una distanza predefinita E comunque ripeto Tutti gli ADAS funzionano molto molto bene Come optional c'è anche l'assistente dell'angolo cieco Che io non ho Autostrada 110 km all'ora Rumorosità direi bassa E 2000 giri il motore Consumo 18-19 km con un litro di carburante Ma adesso giù tutto l'acceleratore Ho trovato il DSG particolarmente reattivo Rispetto ad altri modelli che ho provato Con questo 1500 con il 7 marce Mi sembra quasi più intelligente Ma qua siamo a 130 Come sentite la rumorosità aerodinamica Sì ovviamente un po' aumenta Ma non diventa eccessiva E siamo intorno ai 2200 giri E qua riusciamo a fare Intorno ai 14 km con un litro Ho trovato anche il consumo di carburante Leggermente inferiore rispetto ad altri modelli Volkswagen Con questo motore e questo cambio Non so forse hanno cambiato il software Hanno aggiornato qualcosa Ma devo dire bene Ma adesso proviamo le doti dinamiche La metto in sport Ovviamente miglior risposta dell'acceleratore Ovviamente sterzo un pochino più rigido Ci potrebbe essere anche il DCC Ma è optional Ottimo il comportamento dinamico Un buon appoggio E poi proviamo il destra-sinistra In questa variante E avete visto come si è comportata bene Non si è mossa Ha un comportamento di strada veramente sicuro Nonostante noi abbiamo gli pneumatici invernali L'assetto di questa T-Rocco Mi è piaciuto veramente tanto Sicuro e anche confortevole ma sportivo Frenata Ve la faccio subito vedere Beh, devo dire Molto buona anche quella E anche il DSG Se lo mettiamo in manuale Spostando la leva destra È veloce come è cambiata E... Sì no Voglio divertirmi ancora un po' Ha veramente una gran tenuta di strada Ovviamente c'è la retrocamera Ma non solo Anche i sensori E il park assist Per il parcheggio assistito Tra l'altro Nel cruscotto Possiamo cambiare modalità di visualizzazione Semplicemente schiacciando il pulsante view E possiamo avere questo tipo di Diciamo di vista Abbiamo questo tipo di vista Un po' più minimal E quest'altro con un'indicazione dei dati Magari un pochino più in chiave moderna Volevo far vedere un'altra cosa Se schiaccio nav Si apre questa schermata Perché non è disponibile in questa versione Il navigatore È un optional Ma è un optional Che si può comprare anche a distanza Dallo shop Direttamente dalla vettura Perché la vettura è dotata di una sim Ed è sempre connessa Ma veniamo un pochino alle conclusioni Quanto costa E anche magari qualche differenziazione Rispetto a Taigo Perché Volkswagen È uscita con quest'altra B-SUV Un pochino più coupé Che può sembrare simile Allora Si parte da 26.600 euro Airline parte da 29.300 euro Quella che ho io in prova Con questa motorizzazione E gli optional che vi ho fatto vedere 39.000 euro Bello il fatto che il cruise d'attivo Le Inassis Tutti gli ADAS più importanti Il LED davanti Dietro Il cruscotto digitale Siano di serie su tutte le versioni E sicuramente un bel passo avanti Su finiture materiali Ma le differenze da Taigo Beh La prima La più importante È che qua siamo su piattaforma Golf Mentre Taigo è su piattaforma Polo E poi la varietà di motori E di optional Che qua si possono andare a richiedere Mentre su Taigo no Ma su tutto Questa T-Rock Mi è piaciuta veramente tanto Per come quando sali Te la senti tua Per la dinamica di guida E per come abbia una Grazie stazione di sicurezza Ma su tutto Prendetela Airline Perché è veramente Bella Ciao